Ezechiele capitolo trentacinquesimo E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso il monte di Seir e profetizza contro di esso, e digli, così parla il Signore l'Eterno, Eccomi a te, o monte di Seir, io stenderò la mia mano contro di te e ti renderò una solitudine, un deserto. Io ridurrò le tue città in rovine, e tu diventerai una solitudine, e conoscerai che io sono l'Eterno. Poiché tu hai avuto un'onimicizia eterna, e hai abbandonato i figlioli di Israele in balia della spada, nel giorno della loro calamità, nel giorno che l'iniquità era giunta al colmo, E com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io ti metterò a sangue, e il sangue ti inseguirà, giacché non hai avuto in odio il sangue. E il sangue ti inseguirà. E ridurrò il monte di Seir in una solitudine, in un deserto, e ne sterminerò chi va e chi viene. Ed io riempirò i suoi monti dei suoi uccisi, e sopra i tuoi colli, e nelle tue valli, e in tutti i tuoi burroni cadranno gli uccisi dalla spada. Io ti ridurrò in una desolazione perduta, e le tue città non saranno più abitate, e voi conoscerete che io sono l'Eterno. E siccome tu hai detto, quelle due nazioni e quei due paesi saranno miei, e non ne prenderanno possesso, e l'Eterno ero a quivi, E com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io agirò con l'ira e con la gelosia, che tu hai mostrato nel tuo odio contro di loro, E mi farò conoscere in mezzo a loro, quando ti giudicherò. Tu conoscerai che io l'Eterno ho udito tutti gli oltraggi che tu hai proferito contro i monti di Israele, dicendo, Essi sono desolati, sono dati a noi, poiché ne facciamo nostra preda. Voi, con la vostra bocca, vi siete inorgogliti contro di me, avete moltiplicato contro di me i vostri discorsi, e io ho udito. Così parla il Signore l'Eterno, quando tutta la terra si rallegrerà, io ti ridurrò in una desolazione. Siccome tu ti sei rallegrato perché l'eredità della casa di Israele era devastata, io farò lo stesso di te. Tu diverrai una desolazione, o monte di Seir, tu e Edon tutto quanto, e si conoscerà che io sono l'Eterno. Ezechiele, capitolo 36 E tu, figliuol duomo, profetizza ai monti di Israele e dì, O monti di Israele, ascoltate la parola dell'Eterno, così parla il Signore l'Eterno. Poiché il nemico ha detto di voi, ah ah, queste alture eterne sono diventate nostro possesso. Tu profetizza e dì, così parla il Signore l'Eterno. Sì, poiché da tutte le parti han voluto distruggervi ed inghiottirvi, perché diventaste possesso del resto delle nazioni, e perché siete stati oggetto dei discorsi, delle malelingue e delle maldicenze della gente, perciò, o monti di Israele, ascoltate la parola del Signore dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno ai monti, ai colli, ai burroni, alle valli, alle rovine desolate, e alle città abbandonate che sono state date in balia del saccheggio e delle beffe delle altre nazioni d'ogni intorno. Così parla il Signore l'Eterno. Sì, nel fuoco della mia gelosia io parlo contro il resto delle altre nazioni e contro Edom tutto quanto che hanno fatto del mio paese il loro possesso con tutta la gioia del loro cuore e con tutto lo spresso dell'anima loro per ridurlo in bottino. Perciò, profetizza sopra la terra d'Israele e dì ai monti e ai colli, ai burroni, alle valli. Così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io parlo nella mia gelosia e nel mio furore perché voi portate l'opproprio delle nazioni. Perciò, così parla il Signore l'Eterno, io l'ho giurato. Le nazioni che vi circondano porteranno anch'esse il loro opproprio, ma voi, o monti d'Israele, metterete i vostri rami e porterete i vostri frutti al mio popolo d'Israele perché egli sta per arrivare. Poiché ecco, io vengo a voi, mi volgerò verso voi e voi sarete coltivati e seminati. Io moltiplicherò su voi gli uomini tutta quanta la casa d'Israele, le città saranno abitate e le rovine saranno ricostruite. Moltiplicherò su voi uomini e bestie. Essi moltiplicheranno e saranno fecondi e farò sì che sarete abitati come eravate prima e vi farò del bene più che nei vostri primi tempi e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Io farò camminare su voi degli uomini e il mio popolo d'Israele. Essi ti possederanno, paese, tu sarai la loro eredità e non li priverai più dei loro figlioli. Così parla il Signore l'Eterno, poiché vi si dice tu, o paese, hai divorato gli uomini, hai privato la tua nazione dei suoi figlioli, tu non divorerai più gli uomini e non priverai più la tua nazione dei suoi figlioli, dice il Signore l'Eterno. Io non ti farò più udire gli oltraggi delle nazioni e tu non porterai più lo proprio dei popoli e non farai più cadere la tua gente, dice il Signore l'Eterno. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio al Duomo, quando quelli della casa d'Israele abitavano il loro paese, lo contaminavano con la loro condotta e con le loro azioni. La loro condotta era nel mio cospetto come l'immondezza della donna quando è impura. Ondio riversai su loro il mio furore a motivo del sangue che avevano sparso sul paese e perché l'avevano contaminato con i loro idoli e li dispersi fra le nazioni ed essi furono sparsi per tutti i paesi. Io li giudicai secondo la loro condotta e secondo le loro azioni e giunti fra le nazioni dove sono andati hanno profanato il nome mio santo già che si diceva di loro costoro sono il popolo dell'Eterno e sono usciti dal suo paese ed io ho avuto pietà del nome mio santo che la casa di Israele profanava fra le nazioni dove è andata perciò dia la casa di Israele così parla il Signore l'Eterno. Io agisco così non per cagion di voi o casa di Israele ma per amore del nome mio santo che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. ed io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno dice il Signore l'Eterno quando io mi santificherò in voi sotto gli occhi loro. Io vi trarrò di fra le nazioni e vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese va spergerò d'acqua pura e sarete puri io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli e vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni e voi abiterete nel paese che io ho detti a vostri padri e voi sarete il mio popolo ed io sarò il vostro Dio io vi libererò da tutte le vostre impurità chiamerò il frumento e lo farò abbondare e non manderò più contro di voi la fame e farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi affinché non siete più esposti all'opproprio della fame fra le nazioni allora vi ricorderete delle vostre vie malvace delle vostre azioni che non erano buone e prenderete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni non è per amore di voi che agisco così dice il Signore l'Eterno siavi pur noto vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie o casa di Israele così parla il Signore l'Eterno il giorno che io vi purificherò di tutte le vostre iniquità farò sì che le città saranno abitate e le rovine saranno ricostruite la terra desolata sarà coltivata invece d'essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti e si dirà questa terra che era desolata è divenuta come il giardino d'Eden e queste città che erano deserte desolate rovinate sono fortificate e abitate e le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io l'Eterno sono quelli che vi ho ricostruito i luoghi rovinati e ripiantato il luogo deserto io l'Eterno sono quelli che parlo e che mando la cosa d'effetto così parla il Signore l'Eterno anche in questo mi lascerò supplicare dalla casa di Israele e glielo concederò io moltiplicherò loro gli uomini come un greggio come greggi di pecore consacrate come greggi di Gerusalemme nelle sue feste solenne così le città deserte saranno riempite di greggi e di uomini e si conoscerà che io sono l'Eterno Ezechiele capitolo trentasettesimo la mano dell'Eterno fu sopra me e l'Eterno mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una valle che era piena d'ossa e mi fece passare presso d'esse tutt'antorno ed ecco erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche e mi disse figlio il duomo queste ossa potrebbero esse rivivere e io risposi o Signore o Eterno tu il sai ed egli mi disse profetizza su queste ossa e di loro ossa secche ascoltate la parola dell'Eterno così dice il Signore l'Eterno a queste ossa ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete e metterò su voi dei muscoli e farò nascere su voi della carne e vi coprirò di pelle e metterò in voi lo spirito e rivevrete e conoscerete che io sono l'Eterno ed io profetizzai come mi era stato comandato e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento e le ossa s'accostarono le une alle altre ed io guardai ed ecco venire suddesse dei muscoli crescervi della carne e la pelle ricoprirle ma non c'era in esse spirito alcuno allora egli mi disse profetizza allo spirito profetizza figlio il duomo e di allo spirito così parla il signore l'Eterno vieni dai quattro venti o spirito soffia su questi uccisi e fa che rivivano ed io profetizzai come egli m'aveva comandato e lo spirito entrò in essi e tornarono alla vita e si rizzarono in piedi erano un esercito grande grandissimo ed egli mi disse figlio il duomo queste ossa sono tutta la casa di Israele ecco essi dicono le nostre ossa sono secche la nostra speranza è perita noi siamo perduti perciò profetizza e di loro così parla il Signore l'Eterno ecco io aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò fuori dalle vostre tombe o popolo mio e vi ricondurrò nel paese d'Israele e voi conoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò fuori dalle vostre tombe o popolo mio e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete alla vita vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io l'Eterno ho parlato e ho messo la cosa d'effetto dice l'Eterno e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini e tu figlio il Duomo prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra per Giuda e per i figliuoli di Israele che gli sono associati poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra per Giuseppe e bastone d'Efraim e di tutta la casa di Israele che gli è associata poi accostati e prendeli l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno in modo che siano uniti nella tua mano e quando i figliuoli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno non ci spiegherai tu che cosa vuol dire con queste cose tu rispondi loro così parla il Signore l'Eterno ecco io prenderò il pezzo di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele che sono a lui associate e li unirò a questo che è il pezzo di legno di Giuda e ne farà un solo legno in modo che saranno una sola cosa nella mia mano e legni sui quali tu avrai scritto li terrai in mano sotto i loro occhi e di loro così parla il Signore l'Eterno ecco io prenderò i figlioli di Israele di fra le nazioni dove sono andati e li radunerò da tutte le parti e li ricondurrò nel loro paese e farò di loro una stessa nazione nel paese e sui monti di Israele un solo re sarà re di tutti loro e non saranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni e non si contamineranno più coi loro idoli con le loro abominazioni né con le loro numerose trasgressioni io li trarrò fuori da tutti i luoghi dove essi hanno abitato e dove hanno peccato e li purificherò essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore cammineranno secondo le mie prescrizioni osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica e abiteranno nel paese che io detti al mio servo Giacobbe e dove abitarono i vostri padri vi abiteranno essi e i loro figlioli e i figlioli dei loro figlioli in perpetuo e il mio servo Davide sarà il loro principe in perpetuo e io formerò con loro un patto di pace sarà un patto perpetuo con loro e li stabilirò fermamente li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre e la mia dimora sarà sempre di loro e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno che santifico Israele quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo ad essi Ezechiele capitolo trentottesimo e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo volgi la tua faccia verso Gog nel paese di Magog principe sovrano di Meskek e di Tuahual e profetizza contro di lui e di così parla il Signore l'Eterno eccomi a te o Gog principe sovrano di Meskek e di Tubal io ti menerò via ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti trarrò fuori te e tutto il tuo esercito cavalli e cavaliere tutti quanti vestiti pomposamente gran moltitudine con targhe e scudi tutti maneggianti la spada e con loro i persiani etiopi e gente di Put tutti con scudi ed elmi Gomer e tutte le sue schiere la casa ti do garma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere dei popoli numerosi saranno con te mettiti in ordine preparati tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te e si tu per essi colui al quale si ubbidisce dopo molti giorni tu riceverai l'ordine negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada e contro la nazione raccolta di fra molti popoli sui monti di Israele che sono stati per tanto tempo deserti ma tratta fuori di fra i popoli essa abiterà tutta quanta al sicuro tu salirai verrai come un uragano sarai come una nuvola che sta per coprire il paese tu con tutte le tue schiere e coi popoli numerosi che sonteco così parla il Signore l'Eterno in quel giorno dei pensieri ti sorgeranno in cuore e concepirai un malvagio di segno e dirai io salirò contro questo paese di villaggi aperti piomberò su questa gente che vive tranquilla ed abita al sicuro che dimora tutti in luoghi senza mura e non ha né sbarra né porte verrai per far bottino e prendere per stendere la tua mano contro queste rovine ora ripopolate contro questo popolo raccolto di fra le nazioni che si è procurato bestiame facoltà e dimora sulle alture del paese Sceba Dedan i mercanti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti diranno vieni tu per far bottino hai tu adunato la tua moltitudine per prendere per portare via l'argento e l'oro per pigliare bestiame beni per fare un gran bottino perciò figliolo d'uomo profetizza e dia Gog così parla il Signore l'Eterno in quel giorno quando il mio popolo d'Israele dimorerà al sicuro tu lo saprai e verrai dal luogo dove stai dall'estremità del settentrione tu con dei popoli numerosi teco tutti quanti a cavallo una grande moltitudine un potente esercito e salirai contro il mio popolo d'Israele come una nuvola che sta per colpire il paese questo avverrà alla fine dei giorni io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano quando io mi santificherò in te sotto gli occhi loro o Gog così parla il Signore l'Eterno non sei tu quello del quale io parlai ai tempi antichi mediante miei serve i profeti di Israele i quali profetarono allora per degli anni che io ti farei venire contro di loro in quel giorno nel giorno che Gog verrà contro la terra di Israele dice il Signore l'Eterno il mio furore mi monterà nelle narici e nella mia gelosia e nel fuoco della mia ira io ti dico certo in quel giorno vi sarà un gran commovimento nel paese di Israele i pesci del mare gli uccelli del cielo le bestie dei campi tutti i rettoli che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra tremeranno alla mia presenza i monti saranno rovesciati e le balze crolleranno e tutte le mura cadranno al suolo io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti dice il Signore l'Eterno la spada ad ognuno si evolgerà contro il suo fratello e verrò in giudizio contro di lui con la peste e col sangue e farò piovere torrenti di pioggia e grandi ne fuoco e zolfo su lui sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui così mi magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni ed esse sapranno che io sono l'Eterno Ezechiele capitolo trentanovesimo E tu figlio d'uomo profetizza contro Gog e di così parla il Signore l'Eterno eccomi da te o Gog principe sovrano di Meshech e di Tubal io ti menerò via ti spingerò innanzi ti farò salire dall'estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra tu cadrai sui monti di Israele con tutte le tue schiere e coi popoli che saranno teco ti darò impasto agli uccelli rapaci agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi tu cadrai sulla faccia dei campi poiché io ho parlato dice il Signore l'Eterno e manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono l'Eterno e farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo di Israele e non lascerò più profanare il mio nome santo e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno il santo in Israele ecco la cosa sta per avvenire si effettuerà dice il Signore l'Eterno questo è il giorno di cui io ho parlato e gli abitanti della città di Israele usciranno e faranno dei fuochi bruciando armi scudi targhe archi frecce picche e lance e ne faranno del fuoco per sette anni e non porteranno legna dai campi e non ne taglieranno nelle foreste giacché faranno del fuoco con tutte quelle armi e spoglieranno quelli che li spogliavano e prenderanno quelli che li prendevano dice il Signore l'Eterno in quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà di sepoltura in Israele la valle di viandanti a oriente del mare e in quel sepolcro si chiuderà la via ai viandanti qui vi sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine e quel luogo sarà chiamato la valle di Hamon Gog la casa di Israele li sottorerà per purificare il paese e ciò durerà sette mesi tutto il popolo del paese li sottorerà e per questo ei salirà in fama il giorno in cui mi glorificherò dice il Signore l'Eterno e metteranno da parte degli uomini i quali percorreranno del continuo il paese a sotterrare con l'aiuto dei viandanti i corpi che saranno rimasti sul suolo del paese per purificarlo alla fine dei setti mesi faranno questa ricerca e quando i viandanti passeranno per il paese chiunque di loro vedrà delle osse umane rizzerà lì vicino un segnale finché i seppellitori non le abbiano sotterrate nella valle di Hamon Gog e Amonat sarà pure il nome di una città e così purificheranno il paese e tu figlio d'uomo così parla il Signore l'Eterno di agli uccelli di ogni specie e a tutte le bestie dei campi riunitevi e venite raccoglietevi da tutte le parti attorno al banchetto del sacrificio che sto per immolare per voi del sacrificio sui monti di Israele voi mangerete carne e berrete sangue mangerete carne di prodi e berrete sangue di principi della terra montoni agnelli capri giovenchi tutti quanti ingrassati in basam mangerete le grassa sazietà e berrete del sangue fino a inebriarvi al banchetto del sacrificio che io molerò per voi e alla mia mensa sarete saziati di carne di cavalli e di bestie da tiro di prodi e di guerrieri d'ogni sorta dice il Signore l'Eterno e io manifesterò la mia gloria fra le nazioni e tutte le nazioni vedranno il giudizio che io eseguirò e la mia mano che metterò su loro e da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono l'Eterno il suo Dio e le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata menata in cattività a motivo della sua iniquità perché m'era stata infedele on Dio ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici e tutti quanti sono caduti per la spada io li ho tratti secondo le loro impurità secondo le loro trasgressioni e ho nascosto loro la mia faccia perciò così parla il Signore l'Eterno ora io farò tornare Giacobbe dalla cattività e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome ed essi avranno finito di portare il loro proprio e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me quando dimoreranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più alcuno che li spaventi quando li ricondurrò di fra i popoli li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro in presenza di molte nazioni ed essi conosceranno che io sono l'Eterno il loro Dio quando dopo averli fatti andare in cattività fra nazioni li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più alcuno d'essi e non nasconderò più loro la mia faccia perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele dice il Signore l'Eterno Ezechiele capitolo quarantesimo l'anno venticinquesimo della nostra cattività al principio dell'anno il decimo giorno del mese quattordici anni dopo la presa della città in quello stesso giorno la mano dell'Eterno fu sopra me ed Egli mi trasportò nel paese di Israele in una visione divina mi trasportò là e mi possò sopra un monte altissimo sul quale stava dal lato del mezzogiorno come la costruzione di una città Egli mi menò là ed ecco che vera un uomo il cui aspetto era come aspetto di rame aveva in mano una corda di lino e una canna da misurare e stava in pie sulla porta e quell'uomo mi disse figlio d'uomo apri gli occhi e guarda porgi l'orecchio e ascolta e poni mente a tutte le cose che io ti mostrerò poiché tu sei stato menato qua perché io te le mostri riferisci alla casa di Israele tutto quello che vedrai ed ecco un muro esterno circondava la casa ad ogni intorno l'uomo aveva in mano una canna da misurare lunga sei cubiti ogni cubito d'un cubito e un palmo egli misurò la larghezza del muro ed era una canna l'altezza ed era una canna poi venne alla porta che guardava verso oriente ne salì la gradinata e misurò la soglia della porta che era della larghezza d'una canna questa prima soglia aveva la larghezza d'una canna ogni camera di guardia aveva una canna di lunghezza e una canna di larghezza fra le camere era uno spazio di cinque cubiti la soglia della porta verso il vestibolo della porta dal lato della casa era d'una canna misurò il vestibolo della porta dal lato della casa ed era una canna misurò il vestibolo della porta ed era otto cubiti i suoi pilastri ed erano due cubiti il vestibolo della porta era dal lato della casa le camere di guardia alla porta orientale erano tre da un lato e tre dall'altro tutte e tre avevano la stessa misura e i pilastri da ogni lato avevano pure la stessa misura misurò la larghezza dell'apertura della porta ed era dieci cubiti e la lunghezza della porta ed era tredici cubiti e davanti alle camere c'era una chiusura ad un cubito da un lato e una chiusura ad un cubito dall'altro e ogni camera aveva sei cubiti da un lato e sei dall'altro e misurò la porta del tetto d'una delle camere al letto dell'altra e c'era una larghezza di venticinque cubiti da porta a porta contò sessanta cubiti per i pilastri e dopo i pilastri veniva il cortile tutto intorno alle porte lo spazio fra la porta d'ingresso e il vestibolo della porta interna era di cinquanta cubiti e c'erano delle finestre e delle grate alle camere e ai loro pilastri verso l'interno della porta tutta all'intorno lo stesso agli archi così c'erano delle finestre tutta all'intorno verso l'interno e sopra ai pilastri c'erano delle palme poi mi menò nel cortile esterno ed ecco c'erano delle camere e un lastrico tutto intorno del cortile trenta camere avevano su quell'astrico il lastrico era al lato alle porte e corrispondeva alla lunghezza delle porte era il lastrico inferiore poi misurò la larghezza del davanti alla porta inferiore fino alla scinta del cortile interno cento cubiti a oriente e a settentrione misurò la larghezza e la lunghezza della porta settentrionale del cortile esterno le sue camere di guardia erano tre di qua e tre di là i suoi pilastri e i suoi archi avevano la stessa misura della prima porta 50 cubiti di lunghezza e 25 di larghezza le sue finestre i suoi archi le sue palme avevano la stessa misura della porta orientale vi si saliva per sette gradini davanti ai quali stavano i suoi archi al cortile interno c'era una porta di faccia alla porta setenzionale e di faccia alla porta orientale ed egli misurò la porta a porta cento cubiti poi mi menò verso mezzogiorno ed ecco una porta che guardava a mezzogiorno egli ne misurò i pilastri e gli archi che avevano le stesse dimensioni questa porta e i suoi archi avevano delle finestre tutta all'intorno come le altre finestre 50 cubiti di lunghezza e 25 cubiti di larghezza vi si saliva per sette gradini davanti ai quali stavano gli archi ed essi aveva le sue palme una di qua e una di là sopra i suoi pilastri e il cortile interno aveva una porta dal lato di mezzogiorno ed egli misurò da porta a porta in direzione di mezzogiorno cento cubiti poi mi menò nel cortile interno per la porta di mezzogiorno e misurò la porta di mezzogiorno che aveva quelle stesse dimensioni le sue camere di guardia i suoi pilastri i suoi archi avevano le stesse dimensioni questa porta e i suoi archi avevano delle finestre tutta all'intorno aveva 50 cubiti di lunghezza e 25 di larghezza e c'erano tutta all'intorno degli archi di 25 cubiti di lunghezza e di 5 cubiti di larghezza gli archi della porta erano dal lato del cortile esterno e c'erano delle palme sui suoi pilastri e vi si saliva per otto gradini poi mi menò nel cortile interno per la porta orientale e misurò la porta che aveva le stesse dimensioni le sue camere i suoi pilastri i suoi archi avevano quelle stesse dimensioni questa porta e i suoi archi avevano tutta all'intorno delle finestre aveva 50 cubiti di lunghezza e 25 cubiti di larghezza gli archi della porta erano dal lato del cortile esterno e c'erano delle palme sui pilastri di qua e di là e vi si saliva per otto gradini e mi menò alla porta setenzionale la misurò e aveva le stesse dimensioni così delle sue camere dei suoi pilastri e dei suoi archi e c'erano delle finestre tutto all'intorno e avevano 50 cubiti di lunghezza e 25 cubiti di larghezza i pilastri della porta erano dal lato del cortile esterno c'erano delle palme sui suoi pilastri di qua e di là e vi si saliva per otto gradini e c'era una camera con l'ingresso vicino ai pilastri delle porte qui vi si lavavano gli olocausti e nel vestibolo della porta c'erano due tavole di qua e due tavole di là per scannarvi sugli olocausti i sacrifici per il peccato e per la colpa e a uno dei lati esterni a sette entrioni di chi saliva all'ingresso della porta c'erano due tavole e dall'altro lato verso il vestibolo della porta c'erano due tavole così c'erano quattro tavole di qua e quattro tavole di là ai lati della porta in tutto otto tavole per scannarvi su i sacrifici c'erano ancora per gli olocausti quattro tavole di pietra tagliate lunghe un cubito e mezzo larghe un cubito e mezzo e alte un cubito per porvi su gli strumenti quei quali si scannavano gli olocausti e gli altri sacrifici e degli uncini d'un palmo erano fissati nella cassa tutta l'intorno e sulle tavole doveva essere messa la carne delle offerte e fuori della porta interna c'erano due camere nel cortile interno una era al lato della porta setentrionale e guardava mezzogiorno l'altra era al lato della porta meridionale e guardava setentrione ed egli mi disse questa camera che guarda verso mezzogiorno è per i sacerdoti che sono incaricati del servizio della casa e la camera che guarda verso setentrione è per i sacerdoti incaricati del servizio dell'altare i figlioli di Tzadok sono quelli che tra i figlioli di Levi si accostano all'eterno per fare il suo servizio ed egli misurò il cortile che era quadrato e aveva cento cubiti di lunghezza e cento cubiti di larghezza e l'altare stava davanti alla casa poi mi menò nel vestibolo della casa e misurò i pilastri del vestibolo cinque cubiti di qua e cinque di là la larghezza della porta era di tre cubiti di qua e tre di là la lunghezza del vestibolo era di venti cubiti e la larghezza di undici cubiti e vi si saliva per dei gradini e presso ai pilastri c'erano delle colonne una di qua e una di là Ezechiele capitolo quarantunesimo poi mi condusse nel tempio e misurò i pilastri sei cubiti di larghezza da un lato e sei cubiti di larghezza dall'altro larghezza della tenda la larghezza dell'ingresso era di dieci cubiti le pareti laterali dell'ingresso avevano cinque cubiti da un lato e cinque cubiti dall'altro egli misurò la lunghezza del tempio quaranta cubiti e venti cubiti di larghezza poi entrò dentro e misurò i pilastri dell'ingresso due cubiti all'ingresso sei cubiti e la larghezza dell'ingresso sette cubiti e misurò una lunghezza di venti cubiti e una larghezza di venti cubiti in fondo al tempio e mi disse questo è il luogo santissimo poi misurò il muro della casa sei cubiti e la larghezza delle camere laterali tutto attorno alla casa quattro cubiti le camere laterali erano una accanto all'altra in numero di trenta e c'erano tre piani stavano in mezzo un muro costruito per queste camere tutt'antorno alla casa perché fossero appoggiate senza appoggiarsi al muro della casa e le camere occupavano maggior spazio man mano che si saliva di piano in piano poiché la casa aveva una scala circolare e ogni piano tutto intorno alla casa perciò questa parte della casa si allargava ogni piano e si saliva dal piano inferiore al superiore per quello di mezzo e io vidi pure che la casa tutta intorno stava sopra un piano elevato così le camere laterali avevano un fondamento una buona canna e sei cubiti fino all'angolo la larghezza del muro esterno delle camere laterali era di cinque cubiti e lo spazio libero intorno alle camere laterali della casa e fino alle stanze attorno alla casa aveva una larghezza di venti cubiti tutto intorno le porte delle camere laterali davano sullo spazio libero una porta settentrione e una porta a mezzogiorno e la larghezza dello spazio libero era di cinque cubiti tutto attorno l'edificio che era davanti allo spazio vuoto del lato occidentale aveva settanta cubiti di larghezza il muro dell'edificio aveva cinque cubiti di spessore tutto intorno e una lunghezza di novanta cubiti poi misurò la casa che aveva cento cubiti di lunghezza lo spazio vuoto l'edificio e i suoi muri avevano una lunghezza di cento cubiti la larghezza della facciata della casa e dello spazio vuoto dal lato d'oriente era di cento cubiti egli misurò la lunghezza dell'edificio davanti allo spazio vuoto sul di dentro e le sue gallerie da ogni lato cento cubiti l'interno del tempio i vestiboli che davano sul cortile gli stipiti le finestre le grata le gallerie tutt'attorno ai tre piani erano ricoperti a lunghezza degli spiriti di legno tutto intorno dall'impiantito fino alle finestre le finestre erano sbarrate fino al di sopra della porta dell'interno della casa all'esterno e tutte le pareti d'intorno all'interno e all'esterno tutto era fatto secondo precise misure e verono degli ornamenti di cherubini e di palme una palma tra cherubino e cherubino e ogni cherubino aveva due facce una faccia d'uomo volta verso la palma da un lato e una faccia di leone volta verso l'altra palma dall'altro lato e venera per tutta la casa tutto attorno dall'impiantito fino al di sopra della porta c'erano dei cherubini e delle palme così pure sul muro del tempio gli stipiti del tempio erano quadrati e la facciata del santuario aveva lo stesso aspetto l'altare era di legno alto tre cubiti lungo due cubiti aveva degli angoli e le sue pareti per tutta la lunghezza erano di legno l'uomo mi disse questa è la tavola che sta davanti all'eterno il tempio e il santuario avevano due porte e ogni porta aveva due battenti due battenti che si spingevano in due pezzi due pezzi per ogni battente e sudesse sulle porte del tempio erano scolpiti dei cherubini e delle palme come quelli sulle pareti e sulla facciata del vestibolo all'esterno c'era una tettoia di legno e c'erano delle finestre a grata e delle palme da ogni lato delle pareti laterali del vestibolo delle camere laterali della casa e alle tettoie Ezechiele capitolo quarantaduesimo poi egli mi menò fuori verso il cortile esterno dal lato di Settentrione e mi condusse nelle camere che si trovavano davanti allo spazio vuoto e di fronte all'edificio verso Settentrione sulla facciata dov'era la porta Settentrionale la lunghezza era di cento cubiti e la larghezza era di cinquanta cubiti di rimpetto ai venti cubiti del cortile interno e di rimpetto all'astrico del cortile esterno dove si trovavano tre gallerie a tre piani davanti alle camere c'era un corridoio largo dieci cubiti e per dare all'interno c'era un passaggio ad un cubito e le loro porte guardavano a Settentrione le camere superiori erano più strette di quelle inferiori e di quelle al centro dell'edificio perché le loro gallerie toglievano dello spazio poiché esse erano a tre piani e non avevano colonne come le colonne dei cortili perciò a partire dal suolo le camere superiori erano più strette di quelle in basso e di quelle del centro il muro esterno parallelo alle camere del lato del cortile esterno difacciava alle camere aveva cinquanta cubiti di lunghezza poiché la lunghezza delle camere dal lato del cortile esterno erano di cinquanta cubiti mentre dal lato della facciata del tempio erano di cento cubiti in basso a queste camere c'era l'ingresso dal lato d'oriente per chi ventrava dal cortile esterno nella larghezza del muro del cortile in direzione d'oriente di faccia allo spazio vuoto e di faccia all'edificio c'erano delle camere e davanti a queste c'era un corridoio come quello delle camere di settentrione la loro lunghezza e la loro larghezza erano come la lunghezza e la larghezza di quelle e così tutte le loro uscite le loro disposizioni e le loro porte così erano anche le porte delle camere di mezzogiorno c'era parimenti una porta in capo al corridoio al corridoio che si trovava proprio davanti al muro del lato d'oriente di chi ventrava ed egli mi disse le camere di settentrione le camere di mezzogiorno che stanno di faccia allo spazio vuoto sono le camere sante dove i sacerdoti che si accostano all'eterno mangeranno le cose santissime qui vi deporranno le cose santissime le oblazioni le vittime per il peccato e per la colpa poiché quel luogo è santo quando i sacerdoti saranno entrati non usciranno dal luogo santo per andare nel cortile senza aver prima dei posti qui vi paramenti coi quali fanno il servizio poiché questi paramenti sono santi indosseranno altre vesti poi potranno accostarsi alla parte che è riservata al popolo quando ebbe finito di misurare così l'interno della casa egli mi menò fuori per la porta che era al lato d'oriente e misurò il recinto tutto attorno misurò il lato orientale con la canna da misurare cinquecento cubiti dalla canna da misurare tutto attorno misurò il lato settenzionale cinquecento cubiti della canna da misurare tutto attorno misurò il lato meridionale con la canna da misurare cinquecento cubiti si volse al lato occidentale e misurò cinquecento cubiti della canna da misurare misurò dai quattro lati il muro che formava il recinto tutto intorno, la lunghezza era di cinquecento e la larghezza di cinquecento. Il muro faceva la separazione fra il sacro e il profano. Ezechiele capitolo quarantatreesimo Poi mi condusse alla porta, alla porta che guardava a oriente. Ed ecco la gloria dell'iddio di Israele veniva dal lato d'oriente. La sua voce era come il rumore di grande acque, e la terra risplendeva dalla sua gloria. La visione che io nebbi era simile a quella che io ebbi quando venni per distruggere la città, e queste visioni erano simili a quella che aveva avuta oppresso il fiume Chebar. E io caddi sulla mia faccia, e la gloria dell'Eterno entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo Spirito mi levò in alto, e mi menò nel cortile interno, ed ecco la gloria dell'Eterno riempiva la casa. Ed io udì qualcuno che mi parlava dalla casa, e un uomo che era in piedi presso di me. Ed egli mi disse, Figlio il Duomo, questo è il luogo del mio trono. È il luogo dove posserò la pianta dei miei piedi. Io vi abiterò in perpetuo e in mezzo ai figlioli di Israele. E la casa di Israele e i suoi re non contamineranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con le carogne dei loro re sui loro alti luoghi, come facevano quando mettevano la loro soglia presso la mia soglia, i loro stipidi presso i miei stipidi, tal che non c'era che una parete fra me e loro. Essi contaminavano così il mio santo nome con le abominazioni che commettevano, ond'io li consumai nella mia ira. Ora allontaneranno da me le loro prostituzioni e le carogne dei loro re e io abiterò in mezzo a loro in perpetuo. E tu, Figlio il Duomo, mostra questa casa alla casa di Israele e si vergognino delle loro iniquità. Ne misurino il piano e si vergognino di tutto quello che hanno fatto. Fa loro conoscere la forma di questa casa, la sua disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutti i suoi disegni e tutti i suoi regolamenti, tutti i suoi riti e tutte le sue leggi. Mettili per iscritto sotto i loro occhi, affinché osservino tutti i suoi riti e tutti i suoi regolamenti e li mettino in pratica. Tale è la legge della casa. Sulla sommità del monte tutto lo spazio che deve occupare tutto intorno sarà santissimo. Ecco, tal è la legge della casa. E queste sono le misure dell'altare, incubiti, dei quali ogni cubito è un cubito e un palmo. La base ha un cubito d'altezza e un cubito di larghezza. L'orlo che termina tutto il suo contorno, una spanna di larghezza tale, il sostegno dell'altare. Dalla base sul suolo fino a gradino inferiore, due cubiti e un cubito di larghezza. Dal piccolo gradino fino a gradino, quattro cubiti e un cubito di larghezza. La parte superiore dell'altare ha quattro cubiti d'altezza e dal fornello dell'altare si elevino quattro corni. Il fornello dell'altare ha dodici cubiti di lunghezza e dodici cubiti di larghezza e forma un quadrato perfetto. Il gradino dai quattro lati quattordici cubiti di lunghezza e quattordici cubiti di larghezza. E l'orlo che termina il suo contorno ha un mezzo cubito. La base ha tutto intorno un cubito e i suoi scalini sono volti verso oriente. Ed egli mi disse, figlio d'uomo, così parla il Signore l'Eterno. Ecco i regolamenti dell'altare per il giorno che sarà costruito per offervi sull'olocausto e per farvi l'aspersione del sangue. Ai sacerdoti levitici che sono della stirpe di Zadok, i quali s'accostano a me per servirmi, dice il Signore l'Eterno, darai un giovenco per un sacrificio per il peccato. E prenderai del suo sangue e ne metterai sopra i quattro corni dell'altare e ai quattro angoli dei gradini e sull'orlo tutto intorno, e purificherai così l'altare e farai l'aspersione per esso. E prenderai il giovenco del sacrificio per il peccato e lo subricerai in un luogo disegnato della casa fuori del santuario. E il secondo giorno offrirai come sacrificio per il peccato un capro senza difetto e con esso si purificherà l'altare come lo si è purificato col giovenco. Quando avrai finito di fare questa purificazione, offrirai un giovenco senza difetto e un capro del grege senza difetto. Li presenterai davanti all'Eterno, e i sacerdoti vi getteranno su del sale e li offriranno in olocausto all'Eterno. Per sette giorni offrirai ogni giorno un capro come sacrificio per il peccato, e soffrirà pure un giovenco e un montone del grege senza difetto. Per sette giorni si farà l'espiazione per l'altare, lo suppurificherà, lo si consacrerà, e quando quei giorni saranno compiuti, l'ottavo giorno e in seguito i sacerdoti offriranno sull'altare i vostri olocausti e i vostri sacrifizi di azioni di grazie, e io vi gradirò, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele capitolo quarantaquattresimo Poi egli mi condusse verso la porta esterna del santuario che guarda a oriente, essa era chiusa, e l'Eterno mi disse, questa porta sarà chiusa, essa non s'aprirà e nessuno entrerà per essa, perché per essa è entrato l'Eterno, l'Idio di Israele, perciò rimarrà chiusa. Quanto al Principe, siccome è Principe, egli potrà sedervi per mangiare il pane davanti all'Eterno, egli entrerà per via del vestibolo della porta e uscirà per la medesima via, poi mi menò davanti alla casa per via della porta settenzionale, io guardai, ed ecco la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno, e io caddi sulla mia faccia. E l'Eterno mi disse, figlio il Duomo, sta bene attento, apri gli occhi per guardare e gli orecchi per udire tutto quello che ti dirò circa tutti i regolamenti della casa dell'Eterno e tutte le sue leggi, e considera attentamente l'ingresso della casa e tutti gli egressi del santuario, e di a questi ribelli alla casa di Israele. Così parla il Signore l'Eterno. O casa di Israele, bastano tutte le vostre abominazioni. Avete fatto entrare degli stranieri incirconcisi di cuore e incirconcisi di carne, perché stessero nel mio santuario a profanare la mia casa, quando frivate il mio pane e il grasso e il sangue, violando così il mio patto con tutte le vostre abominazioni. Voi non avete serbato l'incarico che avevate delle mie cose sante, ma ne avete fatti i custodi degli stranieri nel mio santuario a vostro pro. Così parla il Signore l'Eterno. Nessuno straniero incirconciso di cuore e incirconciso di carne entrerà nel mio santuario, nessuno degli stranieri che saranno in mezzo ai figliuoli di Israele. Inoltre, i Leviti che si sono allontanati da me quando Israele si sviava e si sono sviati da me per seguire i loro idoli, porteranno la pena della loro iniquità, e saranno nel mio santuario come dei servi con l'incarico di guardare le porte della casa, e faranno il servizio della casa, scanneranno per il popolo le vittime degli olocausti e degli altri sacrifici, e si terranno davanti a lui per essere al suo servizio. Siccome han servito il popolo davanti a degli idoli suoi, e sono stati per la casa di Israele un'occasione di caduta nell'iniquità, io alzo la mia mano contro di loro, dice il Signore l'Eterno, giurando che essi porteranno la pena della loro iniquità, e non si accosteranno più a me per esercitare il sacerdozio, e non si accosteranno più ad alcuna delle mie cose sante, alle cose che sono santissime, ma porteranno il loro opproprio e la pena delle abominazioni che hanno commesse. Ne farò dei guardiani della casa, incaricati di tutto il servizio d'essa, e di tutto ciò che si deve fare. Ma i sacerdoti leviti, i figlioli di Tzadok, i quali hanno osservato l'incarico che avevano nel mio santuario quando i figlioli di Israele si sviarono da me, saranno quelli che si accosteranno a me per fare il mio servizio, e che si terranno davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue, dice il Signore l'Eterno. Essi entreranno nel mio santuario, essi si accosteranno alla mia tavola per servirmi, e compiranno tutto il mio servizio. E quando entreranno per le porte del cortile interno, indosseranno vesti di lino, non avranno addosso lana di sorta, quando faranno il servizio alle porte del cortile interno della casa. Avranno in capo delle tiare di lino e delle bracche di lino ai fianchi, e non si incingeranno più con ciò che fa sudare. Ma quando usciranno per andare nel cortile esterno, nel cortile esterno verso il popolo, si toglieranno i paramenti con i quali avevano fatto il servizio, li deporranno nelle camere del santuario, e indosseranno altre veste per non santificare il popolo con i loro paramenti. Non si irraderanno il capo, e non si lasceranno crescere i capelli, ma porteranno i capelli corti. Nessun sacerdote berravino quando entrerà nel cortile interno. Non prenderanno per moglie né una vedova né una ripudiata, ma prenderanno delle vergini delle progeni della casa di Israele. Potranno però prendere dello vedove che siano vedove di sacerdoti. Insegneranno al mio popolo a distinguere fra il sacro e il profano, e gli faranno conoscere la differenza tra ciò che è impuro e ciò che è puro. In casi di processo spetterà a loro il giudicare, e giudicheranno secondo le mie prescrizioni, e osserveranno le mie leggi e i miei statuti in tutte le mie feste, e santificheranno i miei sabati. Il sacerdote non entrerà dove è un morto per non rendersi impuro, non si potrà rendere impuro che per un padre, per una madre, per un figliolo, per una figliola, per un fratello, per una sorella non maritata. Dopo la sua purificazione gli si conteranno sette giorni, e il giorno che entrerà nel santuario, nel cortile interno, per fare il servizio del santuario, offrirà il suo sacrificio per il peccato, dice il Signore l'Eterno. E avranno un'eredità. Io sarò la loro eredità, e voi non darete loro alcun possesso in Israele. Io sono il loro possesso. Essi si nutriranno delle oblazioni, dei sacrifici per il peccato, e dei sacrifici per la colpa. Ed ogni cosa votata allo sterminio in Israele sarà loro. E le primizie dei primi prodotti d'ogni sorta, tutte le offerte di qualsivoglia cosa che offrite per l'elevazione, saranno dei sacerdoti. Darete parimenti al sacerdote le primizie della vostra pasta, affinché le benedizioni riposi sulla vostra casa. I sacerdoti non mangeranno carne di nessun uccello, né di alcun animale morto, né da sé o sbranato. Ezechiele capitolo quarantacinquesimo Quando spartirete a sorte il paese per essere vostra eredità, preleverete come offerta all'Eterno una parte consacrata del paese della lunghezza di venticinque mila cubiti e della larghezza di diecimila. Sarà sacra in tutta la sua estensione. Di questa parte prenderete per il santuario un quadrato di cinquecento per cinquecento cubiti e cinquanta cubiti per uno spazio libero tutto attorno. Su questa estensione di venticinque mila cubiti di lunghezza e di diecimila di larghezza misurate, un'area per il santuario e per il luogo santissimo. È la parte consacrata del paese, la quale apparterà i sacerdoti che fanno il servizio dell'Eterno, che s'accostano all'Eterno per servirlo. Sarà un luogo per le loro case, un santuario per il santuario. Venticinque mila cubiti di lunghezza e diecimila di larghezza saranno per i leviti che faranno il servizio della casa. Sarà il loro possesso con venti camere. Come possesso delle città destinerete cinquemila cubiti di larghezza e venticinque mila di lunghezza parallelamente alla parte sacra prelevata. Esso sarà per tutta la casa di Israele. Per il principe riserberete uno spazio ai due lati della parte sacra e del possesso della città di faccia alla porta sacra e di faccia al possesso della città dal lato d'Occidente verso Occidente e dal lato d'Oriente verso Oriente, per una lunghezza parallela a una delle divisioni del paese dal confine occidentale al confine orientale. Questo sarà territorio suo, suo possesso in Israele, e i miei principi non opprimeranno più il mio popolo, ma lasceranno il paese alla casa d'Israele secondo le sue tribù. Così parla il Signore l'Eterno. Basta, o principi d'Israele, lasciate da parte la violenza e le rapine, praticate il diritto e la giustizia, liberate il mio popolo dalle vostre estorsioni, dice il Signore l'Eterno. Abbiate bilanci giuste, efa giusto, bat giusto, l'efa e il bat avranno la stessa capacità, il bat conterrà la decima parte dell'omer, e l'efa la decima parte di un omer, la loro capacità sarà regolata dall'omer. Il ciclo sarà di venti ghere, e venti sicli, venticinque sicli, quindici sicli formeranno la vostra mina. Questa è l'offerta che preleverete, la sesta parte di un efa per un omer di frumento e la sesta parte di un efa da un omer d'orzo. Questa è la norma per l'olio, un decimo di bat d'olio per un cor, che è dieci bati, cioè un omer. Poiché dieci bati fanno un omer, una pecora su di un grege di duecento capi dai grassi pascoli di Israele sarà offerta per le obbligazioni, gli olocausti e i sacrifici di azioni di grazia, e per fare la propiziazione per essi, dice il Signore l'Eterno. Tutto il popolo del paese dovrà prelevare quest'offerta per il Principe di Israele, e il Principe toccherà di fornire agli olocausti le obbligazioni e le libazioni per le feste, per i novi luni, per i sabati, per tutte le solidità della casa di Israele. Egli provvederà i sacrifici per il peccato, l'oblazione, l'olocausto e i sacrifici di azioni di grazia, per fare la propiziazione per la casa di Israele. Così parla il Signore l'Eterno. Il primo mese, il giorno primo del mese, prenderai un giovenco senza difetto e purificherai il santuario. Il sacerdote prenderà del sangue della vittima per il peccato e ne metterà sugli stipidi della porta della casa, su quattro angoli dei gradini dell'altare e sugli stipidi della porta del cortile interno. Farai lo stesso il settimo giorno del mese, per chi avrà peccato, per errore e per il semplice, e così purificherete la casa. Il quattordicesimo giorno del primo mese avrete la Pasqua. La festa durerà sette giorni, si mangeranno pani senza lievito, in quel giorno il Principe offrirà per sé e per tutto il popolo del paese un giovenco come sacrificio per il peccato. Durante i sette giorni della festa offrirà un olocausto all'Eterno, sette giovenchi e sette montoni senza difetto. Ognuno dei sette giorni è un capro per giorno come sacrificio per il peccato. Eva aggiungerà l'offerta di un efa per ogni giovenco e di un efa per ogni montone, con un indolio per efa. Il settimo mese, il quindicesimo giorno del mese, alla festa, egli offrirà per sette giorni gli stessi sacrifici per il peccato, gli stessi olocausti, le stesse oblazioni, la stessa quantità d'olio. Ezechiele, capitolo quarantaseiesimo Così parla il Signore l'Eterno. La porta del cortile interno che guarda verso Levante resterà chiusa durante i sei giorni di lavoro, ma sarà aperta il giorno di sabato. Sarà pure aperta il giorno del novilunio. Il Principe entrerà per la via del vestibolo della porta esteriore e si fermerà presso lo stipide della porta, e i sacerdoti offriranno il suo olocausto e i suoi sacrifici di azioni di grazie. Egli si prostrerà sulla soglia della porta, poi uscirà, ma la porta non sarà chiusa fino alla sera. Parimente il popolo del paese si prostrerà davanti all'Eterno all'ingresso di quella porta nei giorni di sabato e nei noviluni. E l'olocausto che il Principe offrirà all'Eterno il giorno del sabato sarà di sei agnelli senza difetto, ed un montone senza difetto. E la sua oblazione sarà un efa per il montone, e l'oblazione per gli agnelli sarà quello che vorrà dare, e un hing d'olio per efa. Il giorno del novilunio offrirà un giovento senza difetto, sei agnelli e un montone che saranno senza difetti, e darà come oblazione un efa per il giovenco, un efa per il montone, per gli agnelli della misura dei suoi mezzi, e un hing d'olio per efa. Quando il Principe entrerà, passerà per la via del vestibolo della porta e uscirà per la stessa via, ma quando il popolo del paese verrà davanti all'Eterno nelle solennità, chi sarà entrato per la via della porta settentrionale per prostrarsi, uscirà per la via della porta meridionale, e chi sarà entrato per la via della porta meridionale uscirà per la via della porta settentrionale. Nessuno se ne tornerà per la via della porta per la quale sarà entrato, ma si uscirà per la porta opposta. E il Principe, quando quelli entreranno, entrerà in mezzo a loro, e quando quelli usciranno, egli uscirà insieme ad essi. Nelle feste e nelle solennità, l'oblazione sarà d'un efa per il giovenco, ed un efa per il montone, per gli agnelli quello che vorrà dare, e un indolio per efa. E quando il Principe farà all'Eterno un'offerta volontaria, olocausto, o sacrificio di azioni di grazie, come offerta volontaria all'Eterno, gli si aprirà la porta che guarda Levante, ed egli offrirà il suo olocausto e il suo sacrificio di azioni di grazie, come fa nel giorno del sabato, poi uscirà, e quando sarà uscito si chiuderà la porta. Tu offrirai ogni giorno, come olocausto all'Eterno, un agnello d'un anno senza difetto. L'offrirai ogni mattina, eva aggiungerai ogni mattina come oblazione la sesta parte di un efa e la terza parte di un hin d'olio per intridere il fior di farina. È un'oblazione all'Eterno, da offrirsi del continuo per prescrizione perpetua. Si offriranno l'agnello, l'oblazione e l'olio ogni mattina, come olocausto continuo». Così parla il Signore l'Eterno. Se il principe fa a qualcuno dei suoi figlioli un dono preso dal proprio possesso, questo dono apparterrà ai suoi figlioli, sarà loro proprietà ereditaria. Ma se egli fa a uno dei suoi servi un dono preso dal proprio possesso, questo dono apparterà al servo fino all'anno della liberazione, poi tornerà al principe. La sua eredità apparterrà soltanto ai suoi figlioli, e il principe non prenderà nulla dell'eredità del popolo spogliandolo delle sue possessioni. Quello che darà come eredità ai suoi figlioli lo prenderà da ciò che possiede, affinché nessuno del mio popolo sia cacciato dalla sua possessione. Poi egli mi menò per l'ingresso, che era al lato della porta, nelle camere sante destinati ai sacerdoti, le quali guardavano a setentrione, ed ecco che là in fondo verso occidente c'era un luogo. Ed egli mi disse, «Questo è il luogo dove i sacerdoti faranno cuocere la carne dei sacrifici per la colpa e per il peccato, e faranno cuocere l'oblazione per non farle portar fuori dal cortile esterno, in guisa che il popolo sia santificato. Poi mi menò fuori nel cortile esterno, mi fece passare presso i quattro angoli del cortile, ed ecco in ciascun angolo del cortile c'era un cortile. Nei quattro angoli del cortile c'erano dei cortili chiusi, di quaranta cubiti di lunghezza e di trenta di larghezza. Questi quattro cortili negli angoli avevano le stesse dimensioni, e intorno a tutti e quattro c'era un recinto, e dei fornelli per cuocere erano praticati in basso al recinto tutto intorno. Ed egli mi disse, «Queste sono le cuscine dove quelli che fanno il servizio della casa faranno cuocere i sacrifici del popolo». Grazie. 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 Grazie.